Buongiorno a tutti ragazzi bentornati in questo mio nuovissimo video ragazzi Quest'oggi siamo tornati nuovamente qui con un nuovo unboxing ragazzi Sì, ebbene sì, ebbene sì Siamo tornati qui con un nuovo unboxing da scartare Ora apriamo subito molto molto velocemente Perché senza perdici un po' in chiacchiere Apriamo subito Questa volta non avrete la webcam La doppia web che diciamo quella che vedete a me Ma avrete una webcam normale Solo questa, quella della faccia Quindi direi un attimo di aprire molto velocemente questo pacco Che conterrà qualcosa di molto necessario E da tanto tempo che non ho qualcosa del genere Quindi apriamo molto velocemente questo bel pacchettino Il pacchettino appena Quindi apriamo, guarda non quanto è figo Il mio taglia taglia qua Che taglia tutto Taglia, taglia pure pure La carne Non so, così Una cosa detta proprio a caso Se riusciamo ad aprire Ma ragazzi che ogni volta puoi aprire un pacco di mezzo E poi scazzare ci metto una vita Una vita E riusciamo ad aprirlo senza rompere niente Mi sa proprio di no Perfetto Allora qua Ma what the fuck Conservare Etichetta Sigillo Interveni nel pacco Per eventuali Allora qua troviamo Non lo so Un caricatore Ma che è questo? Vabbè Qua troviamo un caricatore Boh non lo so Qua troviamo Un filo di ricarica Con Ma perché è il filo dell'iPhone? Cosa c'è qua dentro? Ma per Mi piace Tutto è pacchetto Ma va che E qua che c'è? Una pezza Un iPhone What the fuck E' una rosa E' una rosa E' una rosa E' una rosa No è gold No è gold Eee Tutto ciò che stava contenendo In questo pacco Che è contenuto In questo pacco E' Un bell'iPhone Un bell'iPhone Un bell'iPhone Perché Cazzo Ho detto Tanto che non ho un telefono Proviamo ad accenderlo Un iPhone Gold Uh si è acceso Si è acceso Si è acceso Si è acceso Si si E' carico E' carico In Italia Non troviamo l'Italia Non trovo l'Italia Eccola qua Imposto lingua Imposto Metti a fuoco Imposto lingua Abbiamo sbloccato Finalmente questo Diciamo Abbiamo sbloccato L'iPhone Quindi ora potete Vedere che è tutto Sbloccato Finalmente dopo tipo Dieci minuti Che ci sto Sbattendo la testa Perché non riesco a creare Non riesco a trovare Più neanche il mio iCloud Il mio ID Apple Eccetera eccetera Però comunque Abbiamo sbloccato Il nostro iPhone Il nostro Il mio iPhone Perché Il nostro Sto cazzo Niente ragazzi Io spero che questo Boxing vi sia piaciuto E soprattutto Mi raccomando In queste settimane In questi giorni Eccetera eccetera Che passeranno Torneremo Con gli scherzi Telefonici Quindi raccomando Ragazzi State sintonizzati Sul canale Delle live Ovviamente Anche su questo Quindi trovate Il canale Delle live In descrizione Oppure basta Che andate Sulla mia Sulla home Normale Principale Del mio canale E a destra C'è scritto Il canale Per le live Basta cliccare Sul canale Live E vi iscrivete Al canale Oppure basta scrivere Mr.Key Live E trovate Il mio canale Niente ragazzi Io ho detto Ciò Spero che questo video Vi sia piaciuto In tal caso Vi vi do Alla scena Un po' Di giù In su Qua sotto Sotto Questo video Mi raccomando Commentate Come vedete Iscrivetevi al canale Se non conosco E noi ci vediamo In un prossimo Video Ciao